Ieri mattina al campo sportivo Montagna si è svolta la manifestazione provinciale di Corsa Campestre sotto l'abile regia organizzativa della professoressa Giovanna Agnolucci, delegata alle attività motorie del MUR. Si sono cimentate nella gara le categorie ragazzi e cadeti per le scuole superiori di primo grado con un totale di 16 istituti e le categorie allievi e juniors per gli istituti superiori di secondo grado con 6 adesioni. Il regno dell'atletica leggera di Via dei Pioppi è stato invaso da oltre 380 alunni che si sono cimentati in distanze dai 1000 ai 2100 metri. L'istituto Cappellini è quello che ha ottenuto maggiori risultati vincendo nella categoria maschile con gli junior e nella categoria femminile con le cadette. Tra le allieve trionfa il liceo classico Costa, nella categoria femminile juniors e vince al Cardarelli. Grazie.